Si intitola la Torino del CIT Campioni e Gregari della provincia più rosa d'Italia, il libro che il giornalista Franco Bocca ha dedicato ai grandi personaggi del ciclismo torinese, lo ha presentato in molte città e centri della città metropolitana di Torino, anche qui nella sede di città metropolitana, al quindicesimo piano, Torino, racconti tanti personaggi, racconti una storia secolare, si può dire, di gente che ha scritto pagine importantissime del ciclismo. Qualche nome su tutti? Torino è stata un po' la culla del ciclismo italiano, cominciando da Giovanni Brunero che negli anni 20 vinse tre giri d'Italia e poi avanti con Martano, due volte campioni nel mondo dei dilettanti, Camusso che vinse il Giro d'Italia nel 1931, il primo Giro d'Italia con la maglia rosa come simbolo del primato e poi più recentemente il mio idolo, è inutile che dica che non è vero, perché è idolo Nino De Filippis, il CIT, colui che mi ha fatto innamorare del ciclismo, ma subito dopo De Filippis sono arrivati altri campioni come Italo Ziglioli, tre volte secondo al Giro d'Italia, maglia gialla al Tour de France e come Franco Balmamion, l'ultimo vincitore piemontese del Giro d'Italia che vinse due Giro d'Italia nel 1962 e nel 1963, come dicono tutti, senza vincere una tappa ed è stato l'ultimo corridore appunto piemontese che aveva vinto il Giro ed è anche l'ultimo corridore italiano capace di aver vinto due Giro d'Italia consecutivi. Il ciclismo, quello di oggi ce lo racconti quasi tutti i giorni sulle pagine della stampa, ma Torino ha vissuto un bellissimo arrivo del Tour de France quest'anno, ma potremmo vivere un giorno un'emozione come quella di vedere un ciclista come Nino De Filippis che arriva allo stadio comunale davanti a 60.000 persone e vince in volata. E sinceramente questo non è facile da dire, il ciclismo, ripeto, Torino ha avuto tanti campioni, ma dopo Ziglioli la stella di Torino ha cominciato a inaridirsi. Ci sono stati dei corridori tipo Fabio Felline che hanno fatto, corre ancora, ha fatto una dignitosa carriera, ma niente a che vedere con le vittorie a ripetizione. Io prima durante la presentazione citavo negli anni 30, ci sono degli anni tipo il 1931, che su cinque corridori, i primi cinque arrivati, quattro erano torinesi. Adesso i torinesi non soltanto non vincono più, ma non partecipano anche al Giro d'Italia. Al Giro d'Italia di quest'anno ce n'era anche uno, un solo piemontese, Filippo Ganna. Al Tour un solo piemontese, Matteo Sobrero. E poi ci sono quelli che con grande passione non hanno mai vinto nulla, ma la storia del ciclismo l'hanno fatta lo stesso. Certo, certo, nei miei libri parlo anche di loro, perché chiaramente non è giusto, è giusto parlare dei campioni, è giusto parlare di chi trascina le folle, ma non è giusto dimenticare totalmente coloro, e sono tanti, sono la maggioranza, che hanno dedicato la loro vita, la loro giovinezza al ciclismo, non sono riuscito ad avere grossi risultati, ma non per questo meritano di essere dimenticati.